La formica e la colomba Una formica setata era scesa in una fontana e trascinata dalla corrente stava per affogare. Se ne avvide una colomba e strappato un ramoscello da un albero lo gettò nell'acqua. La formica vi salì sopra e riuscì a salvarsi. Poco dopo un uccellatore con i suoi pagnoni pronti si avanzò per prendere la colomba. La formica lo scorse e diede un morso al piede dell'uccellatore. Che nell'impeto del dolore gettò via i pagnoni, facendo così fuggire immediatamente la colomba. La favola mostra che bisogna ricambiare i benefattori.